Jason Fuchs è andata male questa sera, cos'è mancato a Lausanna? Un po' di tutto direi, penso che se guardiamo le nostre ultime partite questa sera non c'era proprio niente o quasi niente del nostro gioco che abbiamo di solito, ci è mancato molto il forecheck, abbiamo preso dei gol nei momenti dove non dovevamo e dietro non siamo offensivamente, non siamo riusciti a creare molto, è una serata difficile da dimenticare. La tua stagione invece è più che positiva? Sì è abbastanza positiva direi soprattutto ultimamente c'è del positivo, sto giocando bene, cerco sempre di aiutare la squadra ogni tanto con dei gol, ogni tanto con pattinaggio, con qualsiasi cosa serve alla squadra, penso che abbiamo una squadra davvero ottima sulla carta, giochiamo bene quest'anno e adesso tocca a noi fare il lavoro per rimanere in questo top 4. Mancano dieci giornate alla fine, cosa dove migliorare in Lausanna per cercare di arrivare pronto ai playoff? Penso che dobbiamo renderci conto di quello che ci fa vincere, di come giochiamo quando vinciamo le partite, tutto l'opposto di questa sera e cercare di trovare un po' di costanza nel nostro gioco, partita dopo partita, cosa che ci aiuterà sicuramente per i playoff. L'ultima cosa è come hai visto a Lugano, nonostante le tante assenze sembrava che oggi avessero forse più voglia di vincere di voi. Sì penso che hanno giocato una buona partita, sono uscita di zona, erano davvero bravi, ci hanno messo in difficoltà, sono riusciti a gestire il disco bene, a segnare nei momenti in cui dovevano. No, questa sera li ho visti bene, anche se noi magari non eravamo pronti come avremmo dovuto esserlo, capita però a Lugano buona partita questa sera, noi gli abbiamo dato un po' troppo spazio. Grazie, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie mille, buona domanda.